buongiorno ben ritrovati sul canale benvenuti in questa nuova avventura siamo solo a zona del tolmezzo sopra tolmezzo e oggi andiamo a fare il bivacco rifugio Monte Cerno parcheggiamo la macchina su questo spiazzetto qua un po' più indietro c'è l'attacco del sentiero e cominciamo a salire il sentiero non lo so è nuovo per me non l'ho mai fatto le indicazioni mi danno un tre chilometri e mezzo dunque non è lunghissimo però un 600 abbondante di dislivello dunque ne vedremo un po' delle belle vediamo come 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 procede la giornata ecco qua ci sono le indicazioni sentiero 416 mi dà ricovero Monte Cerno un'ora e 40 sono circa le 11 della mattina vediamo in effetti carichi così quanto ci mettiamo ciao Lelia si si com'è non lo so guarda stavo per scivolare tutta la salita vedete siamo appena partiti si adesso ho l'impressione che si calmi un po' diciamo che l'inizio non è stato dei migliori l'inizio non è stato proprio dei migliori subito un bel sentiero impennatino se è tutto così siamo morti no dai pari di scherzi continuiamo siamo alla tania che dice com'è un po' di scherzi continuiamo un po' di scherzi continuiamo il sentiero finora è molto bello 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 ma che roba pensa in primavera come deve essere ad ogni curva un scorso sempre più bello no? è veramente eccezionale questo sentiero come piace a me proprio altro che stradine forestali no ma ma di cosa stiamo parlando ma che roba guarda e qua c'è una panchina mamma mia l'ultimo pezzo tira eh allora siamo arrivati adesso siamo arrivati qui sono arrivati qui ci sono usati nel piattone ma ed eccolo lì ora come al solito cosa andiamo a fare? andiamo a curiosare vedo subito che c'è una fontana ma è chiusa e a noi serve acqua è enorme sapevo che è enorme ma molto bella la stufa qua non so come funziona questa roba vedremo dopo tre panche sopra ci deve essere un grosso tavolato sopra andiamo addirittura con le brandine ancora torniamo giù e aspettiamo i nostri amici che arrivano peccato per questa fontana ma la così sento il rumore d'acqua magari dopo vado a vedere ve l'ho detto che passiamo la notte qua bello andiamo là in lontananza la tania che sta arrivando stremata ma ce l'ha fatta anche questa volta non è morta per il sentiero sentiamo delle voci mi sa che stasera siamo in compagnia come dicevo è arrivata gente sono in quattro dunque sarà una bella serata se continua per il sentiero meravigliosa direi e laggiù c'è torrente andiamo a vedere perché così è interessante andar giù di qua palazzo qua niente da fare potremmo andare un po' più su là qua niente da fare potremmo andare un po' più su là la proviamo è un po' difficilino prenderla la sotto però questa che passa dal convento ecco la sotto c'è la nostra riserva oppure un po' più giù ma dal più giù valuto che sia un po' peggiore allora questa qua torniamo su al rifugio e andiamo a mangiare qualcosa perché da stamattina ha mangiato niente fino adesso il grande di madonna moleda non dar fastidio e adesso cominciamo a farci male come bello poteva mancare il dolce? no dolce buongiorno che bello però svegliarsi così in mezzo al bosco una figata ieri sera c'è stato un momento ma io dico che saremmo stati una ventina con i cani sicuramente 20 ma non so dove saltava fuori tutta questa gente stamattina metà o forse gente del passaggio che si è fermata a mangiare e poi è andata in notturna non lo so la notte come dicevo data bene però quando sia in tanti ricordatevi un consiglio di portarvi via i tappi per le orecchie altrimenti fate la notte in bianco ora facciamo un po di colazione e dopo vediamo di sistemare un po e torniamo verso verso la macchina a dopo come è andata la notte con la serie fatta con un po di dispiacere lasciamo il posto e iniziamo a scendere fino alla macchina se contenta tania e sinceramente abbiamo passato delle notti migliori però ha sempre un dispiacere quando finiscono queste queste espulsioni comunque questa escursione si trova nei pressi di tolmezzo bisogna arrivare alla località l'ovea e subito dopo a stavoli chiampes dove si parcheggia la macchina su un piccolo spiazzo accanto alla strada si imbocca il sentiero 416 sulla sinistra cinque metri prima del parcheggio lo seguiamo sempre accettando la discreta pendenza che in 3 e 2 chilometri ci porta dai 790 metri di altitudine ai 1400 metri 620 di dislivello totale dove è situato il nostro ex rifugio ora di bito a bivacco con uno stanzone enorme al piano terra quattro tavole otto panche uno spolert ed una zona notte al piano superiore con sette brandine ma con possibilità di accogliere molte più persone acqua c'è una fontana all'esterno ma come è successo a noi in inverno ghiaccia e bisogna seguire il sentiero per altri 100 metri che superando un tratto abbastanza esposto ci porta fino al torrente buona montagna a tutti